A proposito della sanzione del Tassi, il club farà ricorso, lo ha già fatto, lo sta per fare. Vedremo come andranno a finire le cose. Non mi piace fare supposizioni su questi argomenti. Noi ci siamo già rinforzati molto quest'estate. Continuiamo sul mercato con l'idea di continuare a rafforzare la squadra. Quando ci sarà la sanzione definitiva esamineremo la situazione e vedremo il da farsi. Fino ad allora resteremo attivi sul mercato per rinforzarci ancora. Tra le due rivali, come abbiamo visto ieri sera in Supercoppa, ma anche nel resto della prestagione, penso che il favorito d'obbligo sia l'atletico, anche solo per il rispetto che si deve al campione. Il favorito per il titolo non può che essere l'atletico. Hanno cambiato molti giocatori, ma l'idea di gioco è la stessa, anzi, l'hanno ulteriormente messa a punto. Il Real Madrid è il nostro eterno rivale, anche loro si sono rinforzati. La partita di ieri prova che quest'anno sarà dura per noi farcela. Che sarà un campionato molto bello e emozionante per l'altissimo livello di queste due squadre. Noi pensiamo sempre che, se non siamo riusciti a vincere l'anno scorso, abbiamo una gran voglia di vincere tutto. In quanto a voglia e fame non siamo secondi a nessuno.